Ciao, sono Anna, ho 27 anni, sono italiana e sono una freelance. Prima lavoravo come formatrice ed educatrice pedagogista, adesso mi trovo in grosse difficoltà. Siamo qui per aiutare il governo per creare opportunità per i lavoratori self-employati a ottenere durante la crisi. Ci sono più di 32 milioni di professionisti self-employati in Europa. Secondo l'OECD, al principio del lockdown, loro avevano solo un saluto per 2-3 mesi, per l'avereggio. Ciò significa che alcuni di loro sono già all'interno del poverso. L'Organizzazione Internazionale ha già detto che c'è una scuola protezione sociale per i lavoratori self-employati. Quindi deve essere una forma diversa per i più di 15% della popolazione europea di ottenere i soldi. La soluzione che abbiamo trovato è semplice. Abbiamo proposto per i governi di ottenere i risultati ai risultati ai lavoratori e ai lavoratori self-employati. Questo può essere fatto con le platforme per i lavoratori di solitari. Le risultati possono essere time-bondi e le risultate possono essere in-kind per le risultate di business partner e la blockchain. As per i risultati di risultati, ora ora, per la pandemia, i pubblici offices sono overwhelmed con il flow di informazioni e informazioni. Non ci sono alcuni persone che possono essere iniziato. Abbiamo trovato data di online risorse, come la UN, OECD, Eurostat, e l'Internationalrazione dell'Organizzazione. Alla che abbiamo bisogno è una organizazione governante per fare il pilota, una partner di supply chain in food o house called Goods, e una platforme digitale per il lavoro di solitari. Intrapreneurship è stata chiusura per la crescita europea e competitività. Il risultato di questo gruppo di solitari è vital e primordial per la stabilità sociale. di questo gruppo di solitari è stata chiusura per le risultate di solitari. di questo gruppo di solitari è stata chiusura per le risultate di solitari.